E' chiaro che ormai i confini tradizionali della città sono saltati, occorre una pianificazione di area vasta e per questo tipo di pianificazione mancano forse le idee ma sicuramente gli strumenti, non ci sono livelli di governance efficaci per gestire una città territoriale e questo è il problema che prima o poi occorrerà affrontare perché per quanto riguarda sia i servizi sia la pianificazione e l'organizzazione del territorio ormai i livelli istituzionali tradizionali non sono più coerenti con le trasformazioni in atto. Occorre superare la frammentarietà delle amministrazioni locali, probabilmente occorrerebbero livelli di governance di area vasta ripensando le province o costituendo vere città metropolitane, pensando la pianificazione regionale in coerenza con la riorganizzazione di province e denti locali, l'articolazione istituzionale attuale esprime e rappresenta un'organizzazione del territorio e della città che non esiste più.